35 nuove assunzioni per Attiva, Vice Sindaco Blasione, una bella notizia, città più pulita ma anche possibilità di lavoro per tante persone. Sì, è una cosa che sposa questi due obiettivi, intanto quello di rendere più pulita la nostra città di Pescara, dove devo dire che Attiva fa un grandissimo lavoro, testimoniato anche dai profili Facebook, insomma, della società e anche dell'amministrazione. Invitiamo però anche i cittadini a essere un pochino più collaborativi, soprattutto in materia di ritiro degli ingombrandi, a chiamare Attiva, perché c'è un numero verde a disposizione, Attiva naturalmente concorda la data dell'appuntamento per la loro rimozione. Soprattutto in questo periodo facciamo questo appello, perché è il momento in cui la città si apre, diciamo anche ai turisti e alle persone che vengono a Pescara e quindi è giusto farla trovare più pulita possibile. Dal canto nostro l'amministrazione invece sta facendo di tutto per aumentare la dotazione di personale di Attiva. 35 sono le nuove unità lavorative di Attiva che verranno assunte con un concorso che presumibilmente verrà bandito a settembre, quindi dopo l'estate. Adesso c'è un passaggio burocratico che è antecedente a questo concorso, che è il cosiddetto controllo analogo, cioè il Comune di Pescara deve dire di sì a queste assunzioni. Lo farà a breve con una delibera di giunti, io credo già la prossima settimana, a settembre verranno fatti questi concorsi e già entro dicembre le prime 5 o 6 persone verranno assunte. Altre 30, quindi saranno 35 nel periodo che va dal 2018 al 2019, verranno assunte appunto entro la fine del 2019 e poi tra le 12 e le 13 unità verranno assunte nuovamente nel 2020. Insomma stiamo veramente rafforzando l'organico di Attiva, confidiamo nella governance di questa società comunale, ci raccomandiamo nuovamente la cittadinanza e chiediamo soprattutto ai dipendenti di Attiva di fare il possibile per mantenere pulita la nostra città.